Doppio corteo ieri a Taranto e a Genova per chiedere allo Stato di assumere il comando dell'ex ILVA nazionalizzando l'azienda o diventando da subito socio di maggioranza. Lavoratori e sindacati contestano l'attuale governance definendola scellerata. L'inizio di settimana è stato così scandito dalla prima giornata di mobilitazione programmata con lo sciopero unitario in tutti i siti del gruppo a Taranto, stop di 8 ore su ogni turno, 4 ore negli altri stabilimenti. Per i sindacati l'adesione è stata altissima sfiorando il 90%. L'azienda sostiene invece che tutti gli ingressi sono stati picchettati ed è stato impedito a chi voleva entrare di farlo. I dati non sono significativi. Un diverso punto di vista, fatto sta che la questione è molto accesa e per esempio i manifestanti in presidio hanno urlato via da Taranto, chi non salta è Morselli. Il corteo si è svolto anche per le strade di Cornigliano col traffico bloccato. E' ormai irreversibile, ha commentato il leader della Wilma Rocco Palombella, la sfiducia da parte dei lavoratori, del sindacato e delle comunità interessate verso la gestione di Arcelor Mittal. Per Gianni Venturi della FIOM occorre una svolta in tempi rapidissimi. Se lo Stato, ripetisce Valerio Dallò della FIM, è il maggiore investitore deve avere potere decisionale. Mentre il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, assicura che siamo disponibili a fare la nostra parte e a sederci attorno a un tavolo con governo e sindacati. Ma qual è la posizione degli ambientalisti, di chi da anni si batte per la tutela del territorio? Ne parliamo col presidente di Peace Link, il professor Alessandro Marescotti. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Ho fatto una premessa velocissima di quanto è accaduto in queste ore a Taranto. Ci spiega qual è il vostro punto di vista? Voglio innanzitutto dire che come cittadini attivi, come ambientalisti, ovviamente siamo molto vicini alle famiglie dei lavoratori e lavoratori che ovviamente sono preoccupati per questa situazione che si sta aggravando sempre di più. Noi riteniamo che proprio per la tutela dei loro interessi, della loro prospettiva, della stabilità di un'intera comunità occorra preparare un piano B. Sono ormai dieci anni che ci confrontiamo con uno stabilimento che non ha solamente dei problemi di carattere ambientale, ecologico, sanitario, ma ha dei problemi strutturali, economici, di capacità di stare sul mercato. E in questo momento il mercato è attraversato da gravi turbolenze dovute proprio alla guerra in Ucraina. Abbiamo una crisi che riguarda l'aspetto energetico con i costi dell'energia che stanno andando alle stelle. Ha un aspetto questa crisi di carattere relativo all'approvvigionamento. Le materie prime costano tantissimo e sono poche e c'è il grosso problema dell'Ilva di Taranto che è un problema di liquidità. L'inflazione che sta salendo quasi a diventare un'inflazione a due cifre porta in alto il costo del denaro. Le banche non danno più prestiti. C'è una crisi di liquidità senza la quale non si possono acquistare le materie prime, non si possono pagare le bollette energetiche. Quindi questi sono problemi di carattere proprio strutturale che riguardano proprio il contesto che rende difficile all'azienda di stare sul mercato facendo profitti. Io credo che stiano accumulando perdite o se non le accumulano stanno facendo fronte a tantissime difficoltà andando a sganciare poi i contratti con le ditte dell'indotto. Oltre 140 aziende rimangono fuori. Siamo veramente verso una situazione di non ritorno. Io ritengo e con me lo ritengono tanti che sono impegnati sul fronte della difesa ambientale, della difesa della salute, che quando un cavallo muore o sta morendo non bisogna continuare a cavalcarlo, bisogna cambiare cavallo. Noi vorremmo che a Taranto si cambiasse cavallo e che il cavallo su cui occorre puntare è quello di una riconversione e di una transizione ecologica che dia a questi lavoratori l'opportunità di guardare con fiducia il proprio futuro senza continuare a puntare su questa fabbrica che non ha prospettive né da un punto di vista economico né da un punto di vista ecologico. Quindi nazionalizzare l'azienda non è la soluzione? Non è assolutamente la soluzione. Può essere l'intervento dello Stato utile per aiutare i lavoratori e le loro famiglie a tenere botta, a sopportare questo momento di grave difficoltà. L'intervento dello Stato è sicuramente utile, ma è utile per i lavoratori. Un miliardo di Euro per i lavoratori, non per lo stabilimento. Ecco, però c'è chi dice che è impossibile perdere un'azienda del genere su un territorio come Taranto. Impossibile. Era impossibile anche perdere l'Olivetti in Italia. Era impossibile anche perdere tante altre aziende. Il problema è che il mondo sta cambiando, che noi abbiamo una Cina che ha puntato anche sulle esportazioni dell'acciaio. Non possiamo più pensare che l'economia abbia una pianificazione di tipo dirigistico, di tipo sovietico. Siamo in un'economia di mercato e in questa economia di mercato purtroppo questa azienda sta ballando e non riesce a reggere i colpi della concorrenza. La interrompo per riprendere le parole del Ministro dell'Ambiente, che ha paragonato l'Exilva come l'Ucoil di Priolo. Dice che non possiamo perderli perché ci costerebbe molto di più rispetto all'intervento dello Stato. Non so a che cosa voglia mirare. Non possiamo perdere. Io credo che la prima cosa che non dobbiamo perdere è proprio la fiducia di questa comunità in una prospettiva di riconversione. Non dobbiamo perdere tante vite umane che si stanno perdendo con eccessi di mortalità. Non dobbiamo perdere i nostri giovani che vanno fuori da questa città che non fornisce più prospettive. Noi non dobbiamo perdere la prospettiva. Perché io insegno in un istituto tecnico, ma noi adesso che cosa insegniamo in questi istituti tecnici che prima preparavano i lavoratori dell'Ilvas e poi questi lavoratori vengono licenziati? Noi stiamo perdendo un'intera prospettiva. Un'intera prospettiva che dovrebbe invece essere ricollocata sul giusto binario, cioè quello della transizione ecologica. Noi stiamo perdendo assolutamente la prospettiva di una rinascita di questa città. Continuando a cavalcare un cavallo che sta morendo, noi non riusciamo a trovare la soluzione. Noi ci stiamo fossilizzando su una prospettiva che si sta rivelando, e noi lo diciamo da dieci anni, sempre più perdente. La ringrazio per questo suo intervento. Ci risentiremo se vorrà anche per seguire come si evolveranno le cose. Intanto grazie e le auguro buona giornata. Buona giornata. Grazie davvero. Grazie ad Alessandro Marescotti, presidente di Peace Link.